Recita ora la preghiera potentissima che allontana l'invidia di persone malvagie. Il male esiste ed esiste sotto moltissime forme, ma quello che dilaga di più tra noi esseri umani è l'invidia, la gelosia, e questi sentimenti possono purtroppo essere così importanti da procurare energie negative verso le persone che le subiscono. Ecco che oggi recitiamo una stupenda preghiera contro ogni tipo di maleficio, malocchio, invidia, potenza diabolica, macchinazione satanica che potrebbe esserci nelle nostre vite anche se siamo persone molto religiose e preghiamo. Infatti il diavolo tenta ancora di più le persone che amano Dio perché, se riesce a catturare la loro anima, ha un maggiore successo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Dio nostro, o Sovrano dei secoli, onnipotente e onnipossente, Tu che hai fatto tutto e che tutto trasformi con la Tua sola volontà, Tu che a Babilonia hai trasformato in rugiada la fiamma della fornace sette volte più ardente e che hai protetto e salvato i Tui santi tre fanciulli, Tu che sei dottore e medico delle nostre anime, Tu che sei la salvezza di coloro che a Te si rivolgono, Ti chiediamo e Ti invochiamo. Vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza diabolica, ogni presenza e macchinazione satanica e ogni influenza maligna, ogni maleficio o malocchio di persone malefiche e malvagie operati sul Tuo servo. Fa che in cambio dell'invidia e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo e carità. Tu, Signore, chiami gli uomini, stendi le Tue mani possenti e le Tue braccia altissime e potenti e vieni a soccorrere e visita questa immagine Tua, mandando su di essa l'Angelo della Pace, forte e protettore dell'anima e del corpo, che terrà lontano e scaccerà qualunque forza malvagia, ogni beneficio e malia di persone corruttrici e invidiose, così che sotto di Te il Tuo supplice protetto con gratitudine ti canti Il Signore è il mio soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi l'uomo. E ancora, non avrò timore del male perché Tu sei con me, Tu sei il mio Dio, la mia forza, il mio Signore potente, Signore della Pace, Padre dei secoli futuri. Sì, Signore Dio nostro, abbi compassione della Tua immagine e salva il Tuo servo. Da ogni danno o minaccia proveniente da maleficio e proteggilo ponendolo al di sopra di ogni male. Per l'intercessione della più che benedetta, gloriosa Signora, la Madre di Dio e sempre Vergine Maria, dei risplendenti arcangeli e di tutti i Tuoi santi. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.